La Copsicilia conferma in una nota di aver presentato una proposta vincolante per l'acquisizione di 6 punti vendita e di aver ricevuto il nulla osta da parte del Tribunale di Catania, al quale è stata affidata la procedura di concordato di Aligroup S.P.A., aggiungendo che da quel momento con la massima celerità si sono avviate tutte le procedure operative per rendere più velocemente possibile il possesso e la riapertura di questi negozi. Copsicilia ha inoltre confermato di aver recentemente avanzato una proposta formale e revocabile anche per acquisire un altro supermercato per il quale non ha ancora ricevuto il nulla osta. La società comprende, si legge nella nota, il disagio dei lavoratori che per cause non certo imputabili alle cooperative socie hanno perso il posto di lavoro, ricordando in proposito che aveva proposto da Aligroup prima della situazione concordataria poi avviatasi dalla società l'acquisto di ben 21 punti vendita. Copsicilia e i suoi soci, continua la nota, comprendono molto meno invece le più recenti dichiarazioni sindacali che parlano di silenzio e latitanza da parte di Cops e che sono prive di ogni fondamento. Si tratta, sottolinea la società, di un'interpretazione scorretta delle procedure imposte dalla delicata situazione in cui Versali Group da parte di chi come le organizzazioni sindacali dovrebbe invece conoscerle bene.